Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è gratuito. Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito è la tua vita il mondo, però che non temiamo perché l'ha vencido al mondo. E in questo tempo cercano, anche a ricordare il sacrificio di Gesù, ma anche sua morte, veniamo a noi amici e amici di lavoro di esperanza, di una pronta rencontra con i nostri seri feriti. E ora, il nostro amico, però i nostri corazzi anche, anche le persone che ci hanno preceduto. Que questa sia nostra fortalezza, la fortalezza per la famiglia, che Dio ci fortalezza, che la fede di sua pazza, che la fede del mondo non può dare. E voglio chiedere a tutti che ci stiamo con un Padre nostro, per favore. Padre nostro che stai nel cielo, santificato sia il tuo nome, venga a noi a tuo reino, venga a tuo volontà in la terra come il cielo, dà noi oggi il nostro pan di ogni giorno, perdone la nostra sorpresa come noi perdoniamo a tutti che ci stanno. E non ci stai in tentazione, viviamo nel malo, amè. Benito sia tuo nome, Signore e Dio, sappiamo che abbiamo speranza, che questa speranza e questa fortalezza con tuo Santo Espirito recae in la famiglia, sapendo che, prontamente, in alcun momento, perché il tempo è corto, stiamo con i nostri santo, signori. Dio ci stai in tentazione. Fuerza per tutti e palmas, compañero. Grazie. 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 Grazie.